Ciao a tutti, finalmente possiamo ricominciare Io e Ron abbiamo sentito degli strani rumori fuori dal corridoio proibito Vieni al terzo piano e dai un occhiale Ciao a tutti eh Adesso abbiamo comprato, abbiamo comprato il volume ora Siete contenti? Adesso sto rossito e abbiamo parlato un sacco di cose Ora sto muto Ho appena letto sulla gazzetta del profeta che la Gringo, sulla banca dei maghi, sta paracinata Allora possiamo ricominciare tutta la regione Dove si era la cacciata di lei? Che bella cicatrice Grazie Non si è stata proprio Il terzo piano si trova in cima a queste scale Almeno ieri era lì Il terzo piano si trova in cima a queste scale Almeno ieri era lì Scusate che avevo spento